Domani, 3 febbraio, c'è l'ennesimo appuntamento con l'Open Day per l'Istituto Tecnico Industriale Torricelli di Sant'Agata Militello. La scuola è al passo coi tempi, collegata al territorio e apre le prospettive agli studenti perché possano presentarsi al meglio, sia agli studi universitari quanto anche alle opportunità del mondo del lavoro. La scuola, grazie ai fondi del PNRR, punta molto sui suoi laboratori e questi ed altro potranno visionare gli studenti e le famiglie per scoprire la riccofferta formativa, chimica, materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica. Scuola aperta, laboratori attivi con docenti e i nostri ragazzi che attualmente frequentano il nostro istituto faranno da tutor, accompagneranno i ragazzi in giro per l'istituto e faranno vedere i vari esperimenti, dei vari indirizzi che abbiamo, informatica, logistica e trasporti, meccanica e meccatronica, elettronica e chimica e biotecnologie. Questo ci consentirà chiaramente di esprimerci al meglio e di far vedere concretamente cosa sperimentiamo nelle nostre aule. Presumo che i genitori siano preoccupati per il futuro dei loro figli e soprattutto anche perché abbiano, diciamo, una formazione, uno studio attento e al passo coi tempi. Preoccupazione legittima, viviamo in un periodo delicato, in un periodo particolare e la scuola quindi ha un grande compito e deve accettare la sfida, la sfida di centrare la propria offerta formativa sullo studente, sul ragazzo, con particolare attenzione a tutti gli aspetti, in particolar modo alle competenze, ma anche all'educazione e all'affettività, all'educazione e alla legalità, quindi una formazione a 360 gradi che non tralasci nulla.